L'attività molto differente da quella di cui abbiamo sin qui parlato riguarda invece il controllo del territorio ancora una volta che deve rappresentare per tutti gli appartenenti all'arma un aspetto fondamentale e di rinunciabile. È stato proprio così, grazie alla meritoria attività dei carabinieri della stazione Misano, individuare due donne che da più di un mese si erano rese latitanti a fronte dell'emissione di un provvedimento cautelare emesso dall'autorità giudiziaria di Vibo Valencia in Calabria, che vedeva ricostruito a loro carico la realizzazione di un grosso colpo, di un furto all'interno di una gioielleria di Serra San Bruno, piccolo centro del Vibonese, per più di 80.000 euro. Erano state asportate nella circostanza monili e preziosi di varia natura. Quindi l'iniziale attività di ricerca dei colleghi con i quali abbiamo collaborato sin dalle prime battute dell'indagine ci ha poi portato a distanza di più di un mese di individuare le due donne nella zona di Misano Adriatico dove siano recate all'interno di un cimitero per rendere omaggio ai loro defunti. L'attività informativa di controllo del territorio ci ha consentito di sapere questa cosa e di poterla monitorare e di far sì che le donne poi potessero essere tratte in arresto in esecuzione del provvedimento cautelare di cui ho appena parlato.